Insegnanti, operatori scolastici e agenti di polizia locale, sono queste le categorie interessate dalle prossime fasi della vaccinazione secondo il Piano Straordinario Regionale. Per questo nelle scorse ore è tornato a riunirsi il COC, il Comitato Operativo Comunale del Capologo Pugliese, per valutare tutte le azioni utili alla gestione della fase di vaccinazione che coinvolgerà una parte dei dipendenti comunali. Entro le prossime ore quindi il Comune di Bari avvierà le verifiche sulla disponibilità dei propri dipendenti che rientrano nelle suddette categorie. Circa 850 unità tra operatori scolastici, educatori, personale ate e agenti di polizia locale a cui sarà chiesto di compilare un form di adesione così da fornire a stretto giro l'elenco dei soggetti che a partire dalla prossima settimana saranno sottoposti a vaccino. A questi si aggiungeranno tutti i dipendenti delle aziende, società e cooperative che forniscono servizi nelle strutture interessate, addette al trasporto scolastico, mense e pulizie. Sempre nel COC sono state affrontate le questioni relative all'organizzazione dei siti individuati per le operazioni di vaccinazione. Nei prossimi giorni si procederà ad allestire e a procedere con tutte le attività propedeutiche sia per la sede del comando di polizia locale che per il pala carbonara di Carbonara. Una volta consegnati gli elenchi del personale dipendente da vaccinare, il partimento di prevenzione deciderà le modalità e la tempistica delle operazioni.